La narcosi da gas inerte è caratterizzata generalmente da sintomi paragonabili a quelli dell'intossicazione alcolica, difficoltà di pensiero, di giudizio e di svolgere compiti che richiedono una certa abilità mentale o motoria. Proprio per questa analogia, il comandante Cousteau chiamò tale fenomeno effetto Martini, intendendo che, per ogni 15 metri di profondità, un subacqueo si comporta come se avesse bevuto un cocktail Martini a stomaco vuoto.